Ciao a tutti ragazzi, in questo video vi farò vedere il mio braccialetto Pandora, però ho anche una sorpresina per voi. È da tanto tempo che volevo fare un giveaway e questo è il mio primo giveaway su questo canale e lo faccio per ringraziarvi per tutto il vostro affetto e perché vi voglio un sacco di bene. Allora, le regole del giveaway sono che innanzitutto devi essere iscritto al canale e poi sotto a questo video devi scrivere nei commenti partecipo. Poi devi seguirmi su Instagram, il link sta qui sotto nell'info box e su Instagram troverai questa foto e sotto questa foto ci sono tutte le indicazioni per il giveaway. E comunque alla fine del video vi faccio vedere il braccialetto che vi regalerò. Allora, adesso invece vi faccio vedere il mio braccialetto Pandora e i charms. Ok ragazzi, eccolo qui. Mi inizio a far vedere il mio primo charm che ho preso, questo qui, il coniglio. E allora, questa è tipo la sezione Disney. Però comunque voi vi chiederete che c'entra il coniglio. Però comunque a me piace molto Alice nel Paese delle Meraviglie e quindi questo dovrebbe essere tipo il coniglio di Alice nel Paese delle Meraviglie che c'entra con Disney. Poi ci sta questo cuore, c'entra con Cenerentola che vi ho fatto vedere nel mio video dei regali di compleanno. Poi ci sta questa zucca, vabbè la conoscete, la zucca di Cenerentola, la carrozza. E poi, o almeno credo che la conosciate, però comunque. Poi ci sta Minnie che fa sempre parte della Disney. E vabbè poi c'è questo cuore che non è che c'entra niente, però comunque è sempre carino insieme agli altri charms. Poi ci stanno queste due clip rosa e poi ci sta questo orsacchiotto col fiocco rosa, molto carino. E questa casetta che l'ho presa quando abbiamo cambiato casa. Ecco qua il bracciale. Ci sta anche Wolfie. E comunque, sì, è molto carino. Adesso invece vi faccio vedere il bracciale che regalerò al giveaway. Ok, eccolo qui. È molto carino, con questo fiocco di neve molto brillantinato, con scritto Pandora. E poi qua ci sta scritto Unique as you are. È comunque molto carino. Anche se è semplice, è molto bello con questo fiocco, poi mi piace tanto, veramente tanto. E non vedo l'ora di regalarlo a uno di voi. Comunque ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale se volete partecipare al giveaway. E comunque ricordatevi anche di fare tanti like al video se vi è piaciuto. E ci vediamo nel prossimo video. Alla prossima ragazzi, ciao ciao! Saluta, ciao!